salve a tutti Alessandro Mariani in questo video effettueremo l'inserimento sim su wiko highway essenzialmente si tratta del top gamma di casa wiko è uno smart dual sim che presenta due slot per due micro sim procediamo adesso con l'inserimento con la spilla che trovate all'interno della confezione dovete premere sullo slot relativo in modo da sentire un click una volta una volta fatto ciò inserite la micro sim nello slot e riponetela dentro lo slot fino a renderlo solidale collato in questa maniera dopodiché prendete la spilla nuovamente premete nel forellino estraete lo slot ed inseriteci la micro sim guardate ovviamente il verso ma controllato in questa maniera questa va di qua fino a renderlo nuovamente solidale per questo focus è tutto vi ricordo di seguirci nei focus dedicati a wiko highway ma soprattutto nei canali social sotto elencati un saluto da alessandro mariani da formobiles.info no 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 Grazie a tutti.